Fortuna, sta notte le hai visti? Chi? I giganti! Come fanno a sapere dove sto? Ti va di dirmi chi sono queste persone? Perché non mi ricordo niente. Come mi hai chiamata? Sei la principessa del pianeta d'Abyss e i tuoi amici ti hanno scordato qua. Devi tornare sul tuo pianeta prima che i giganti ti vedano! So io come farti tornare a casa. Sono stati giganti. Li ho visti. l'ho 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 Grazie a tutti.